Ciao a tutti, rieccoci qua Allora Ho notato Guardando le scorse live Che Mancava l'audio del computer Del gioco Ora ho sistemato L'ho scoperto Come mai E ho fissato Vabbè Rieccoci qua con Un gioco Allora Io l'altro ieri ho giocato Continuando da dove ho interrotto la live di tre giorni fa E sono arrivato qua Pensavo che stessi registrando tutto In live Poi ho scoperto che non ero in live ma stavo registrando Salvando i video sul PC Il video sta su YouTube Su mio account Pagno vita Quindi Ho fatto tipo due ore e mezza di gioco Ciao a tutti 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 Allora Dunque Ho cambiato un po' il mio setup Ho queste armi E mo Qua C'è un boss Che non penso sia complicato Lo trovo abbastanza facile Allora Qua Noi 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 Ma che è tutto Tutto sta Grazie 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 Ok Noi Ma la cosa è Ho queste armi qui Ho tolto il fabbro Grazie C'è però Cazzo Grazie. Grazie a tutti. 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 Tantissima difesa per il veleno. Grazie a tutti. 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 No, no, no. Il fatto stava sotto mi sembra. C'è stato un po' di più. Grazie a tutti. 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 Dai. Grazie a tutti. Ho visto. grazie a tutti. 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 Noi. 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 Noo. 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 No 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 My brain is unlocked Grazie a tutti 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 Ok, queste Allora Sono un po' Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti E' la palo di Allora, per il peso Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ah, questa Grazie a tutti 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 Non mi devo questo. Chosen bearer of the lamp, like you I sir until her embrace. This land is overflowing with to offer you little also, say nothing of this to they are already conflicted. While even the handling of such items is all facets of this head. Two fellow crusaders accompanied me to Mourn's stead. One a paladin who sacrificed himself to facilitate your resurrection. The other a Harrowa, who revealed herself to be an apostate and thief. When she stole the apparatus with which I am able to converse with the Council of Overseers. An apparatus I would see returned to me by your hands. Harrowa Dervla can be found in the tenebrous bowels of the mine, a fitting place for one who has turned her back on Aureus Light. Whatever poisonous lies Derva may spit at you, for they are nothing but the foul blasphemies of a f... If the abominable Rogar and heretical sentinels were not already reason enough to demand Mourn's stead's cleansing, consider those f... For there is no place within Aureus Light. Death is a merciful release in the face of... Death is a merciful release in the face of... No one does say... No one does say... Ah, però... Io col peso sono più al limite. Proprio pesanti sono questo. Io prenderei questo. Tu serve a higher purpose, Crusader. Non so, non so, non so, non so, non so, non so. Ok Cazzo Quello che tu vuoi usare la spada Lo spadone Non ti Cristo Santo mi ha indicato vabbò allora per la prossima live potrei andare in quella parte sotto l'hub quindi terminiamo qui la live e ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao